Musica Musica E salve ragazzi, prima di lasciarvi al video volevo appunto aggiungere i saluti delle persone che hanno chiesto di essere salutate sotto la cinquantesima puntata Le persone sono Poi ragazzi, ci sono alcune persone che volevano essere salutate da Marchetta Ma purtroppo la puntata era già registrata e appunto Marchetta non c'era Quindi ragazzi vi saluto io E se mai limite scrivete sotto nella prossima puntata per essere salutati da lui I nomi sono Riccardo Petrin, Agri03, Oliver Caglio e Tommy Meneghetti Scusate ragazzi ma vi devo salutare io perché Marchetta appunto in questa puntata non è presente Ancora una cosa ragazzi volevo chiedervi se riusciamo a portare il video a minimo 200 like Perché questa persona che non vi spogliero la vedrete appunto nel video più avanti Se li meritati tutti Quindi ragazzi mi raccomando sotto coi pollici Mi raccomando spolliciate come se non ci fosse un domani E niente, che dire ragazzi Non mi resta che augurarvi buona visione E salve a tutti ragazzi e benvenuti nella 51esima puntata della serie Norgion Qui su Farming Simulator 15 Oggi ragazzi come potete vedere Che me l'avete chiesto Abbiamo mia moglie nel video Quello qua saluta Ciao Dai che ti sento Ciao E niente ragazzi dai l'abbiamo convinta L'avete convinta Io vi ringrazio, vi ringrazio infinitamente Io sono contentissima di ospitarla appunto in un nostro video E niente, quindi ragazzi quest'oggi ne vedremo delle belle Perché qui davanti ho posteggiato il deus con la trebbia Ciò vuol dire che andremo a raccogliere dell'orzo o frumeta Adesso non mi ricordo cos'è Quindi ragazzi la facciamo trebbiare Quindi la proprio, la impregniamo nel cuore dell'agricoltura Cioè il raccolto amore Eh? Sei contenta? Ecco Quindi niente dai li faremo trebbiare il... Adesso non so che cos'è E' il campo Vediamo un attimino E' il... Minchia è grosso Il 22 mi sa E' grosso quel campo lì Siamo quello che posso Sì dai Va bene dai Quindi dai Un repilogo della puntata precedente Con Marchette e gli altri Abbiamo appunto seminato tutto per... Tutto OAT Perché ragazzi in città Ho conosciuto Diciamo così Una persona Che ha bisogno di un grosso carico di OAT Che ce lo paga in nero Quindi ragazzi state zitti Non ditelo a nessuno Marchette ha fatto bene a seminarlo Perché così almeno guadagniamo un po' di soldi Quindi quest'oggi ragazzi Raccoglieremo l'ultimo campo di frumento Che c'è rimasto Sei contenta? Sì Quindi Ti passo le cuffie Ah tocca a me? Dove devo salire? Perfetto Non mi ci puoi far salire tu? Potevi mettermelo in un posto un po' più? Dove vado? Vai giù dritta Bisogna andare qua Quindi vai giù di là La strada è lì Adesso stiamo passando sul seminato che ha fatto Marchetto Gira perché sennò vai a finire in un muro Aiuto Ma potevi portarlo tu giù? Ma scusa Bisogna che ti alleni eh Vai avanti Gira a destra Sì adesso ho capito Tira giù i cartelli Picca nei cartelli I cartelli Brava Andiamo sul farm Non ci capisco niente Ti guido io non ti preoccupare Vai 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 Ecco sali Tasto E Vai Questa qua è un po' più ingombrante eh Quindi Oh ma mi sbaglio Aspetta E vabbè dai succede Perché c'è quella caretta lì Che mi costruisce il passaggio Eccola lì è la carretta di Marchetto eh Come mai lasciamo le carette in giro Marchetto? Va così piano? Sì va così piano Però non tirare giù le cisterne Dove è la strada? Perché sono soltiamo in aria Vai dritta Ma passo di lì? Sì passa di lì Che intanto Marchetto Rissemina poi semmai vai Ok adesso Dobbiamo selezionare In basso a destra Vedi che c'è la Il simbolino Trattatore e l'utensile Che stai usando No? Giusto? Adesso premi il tasto B E ho acceso la tregua Vedi? Adesso non devi fare altro Andare dritta Che andare dritta Fino in fondo La visuale me la cambia un po'? Come la vuoi? Voglio vederla fine Non si può vederla fine Ah è così così No Così Giro un levemento a destra Per tenerla un po' più nel campo Troppo? Sì Rientra E riadrizza la sinistra Ancora 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 un goccio Basta Troppo Ma vabbè Fallo andare così Finché va Io secondo me è così Siamo già al 46% Quindi vuol dire che la trebbia È quasi piena Ok? Quindi adesso schiaccia il tasto O Aspetta dove l'hai letto? Fa leggere Dove l'hai letto? Ah sì O? Sì E ma deve venire qualcuno? Esatto Adesso schiaccia il tasto H Esce dalla trebbia Come faccio? Tasto numero E Tasto E Poi sul trattore Veramente? Sì E devo tornare là? Sì Eh un attimo È un attimo Un attimo Non va bene? Ma non me l'hai mai fatto vedere una cosa così? Ti insegno Ecco Vedi? Devi andare bene sotto e far scaricare E adesso? E adesso aspetta Che la trebbia si svuoti E? Aspetta che la trebbia si svuoti Poi continuiamo a trebbiare Amore ti faccio vedere Scusa Un'inquadratura bellissima Guarda che meraviglia Sì lascia questo Ecco Che brava mio amore Ma adesso Devo girare io laggiù Adesso devi fare manovra a te Abbiamo una Una contadina in famiglia Tanto Salutiamo Marchetto Jack Ciao ragazzi Ovunque voi siate Ciao Cos'è quello a fare lì? Ah quello lì? Ah sì Stai spingendo la La carretta di Marchetto E come faccio a toglierla? Eh non puoi Ormai è che ci sei Spingela giù fino in fondo Meno la levi dal campo Vai dritta ancora Ah ancora? Figa meno levi la carretta Dalle palle Fai un po' di marcia indietro adesso Ah sì Adesso Ancora un po' di retromarcia Adesso aspetta Aspetta Perché la manovra di fine campo Va fatta così Cioè Schiacci il tasto G Selezioni la barra Fai il tasto V Adesso che la alzi Vedi? Ecco Perché dobbiamo farla così Eh perché È come nella realtà Cambiati la visuale No cerci Aspetta Fammi fare a me Cerca di metterti il più dritto possibile Non è facile Se vado sopra Sì vai 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 Troppo Mi giri la visuale Però c'ero quasi C'ero quasi Perché mi hai fatto Cos'hai fatto tu di diverso? Io volevo seguire qua Stai attenta alle bande Per correggila Eh ma è stavo capendo Ma è stavo capendo Ma è stavo capendo Ti piace farming? Eh? Ma Beh Non sei da trattore amore Eh sì è Come non sei da trattore? È dura sopportarmi? Ah sì? Ora sto ferma? Eh stai ferma Vedi la percentuale In basso a destra? Che scende grazie Che scende infatti Ma quando è pieno quello invece? Quando è pieno quello Mettiamo la trebbina automatico E le Mi facciamo saperlo Quando è pieno? Eh poi semmai Gli puoi controllare Andiamo a scaricare? Puoi scaricarlo vai Eh ma ha finito quella là? Di cosare? Dove si passa? Devi andare a destra Salire su di qua Andare su salire su Ah nelle rocce Non nella strada Sì sì no nelle rocce C'è una piccola stradina verde Ma vedi? Sì ho visto Bartelli Secchi No la balla di Fien Ecco Vai 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 ancora Vai ancora Vai ancora Boom Tasto Q adesso Ma si può vedere cosa facciamo? Volevo vedere ma La trebbia sarà piena Dobbiamo riandare là? Allora aspetta aspetta Che palle Io voglio fossare di qua Se passo dai cinti No dai cinti Non ci puoi passare Non fare il marchetto Della situazione Per favore Gira adesso Eh lo so Eh ho capito Allora gira no? Sì non devi Indarne Madonna Se tu mi agiti Non riesco a farlo Mi fai fare quello Che voglio io Un attimo Non andare sopra La tenta della casa Che lì è il posto Di marchetto Ma prima son passata Di lì eh ciccio Eh no Si è passata un po' Guarda che ci sono le ruote Ma dov'è la trebbia? Eh amore Lagi c'è che ti aspetta È diventato vecchio L'operaio nel frattempo Ci aspetta quando è finito? Se io adesso vado avanti Cosa succede? In che senso? Se scappo Cosa succede? Se scappo Cosa succede? Voglio sapere Cosa succede? Ma in che senso? Non capisco la tua domanda Se io adesso vado avanti Cosa succede? Beh avanti niente Si riempie sempre Il carro Finchè tu esci E finchè tu non esci Dalla portata del tubo Ah ecco Dai ultima Ultima passata E poi ti faccio Ti faccio portare Un po' di Un po' di mangiare le muche Sei contenta? Si si Ok Poi lo finisco io Di trebbiare quello Si si Ma non mi preoccupa la cosa Ah si? E non devo uscire dal campo? Fai il tasto B Ok Tasto E E vado veloce Ma io vado veloce Perché io so andare veloce Ok Adesso ti prendi Mano trattore T E Bisogna che vai a Caricare le barbabietole Da zucchero Qua Sotto Nel secondo Nel secondo punto di carico Quindi Ti lascio La visuale alta Vai sotto il nastro Trasportatore Il secondo Cioè quello in mezzo Vai Piano piano Vai Brava Vai Sterza adesso Sterza Dritta Troppo No lo voglio fare io Posso? Buonanotte Ma allora cosa mi fai giocare Scusa Brava Brava Buon Fermali Ferma Non muovere niente Da applauso L'hai fatto da sola Complimenti Sì Sì Cioè su tre anni Bravo Bravo Ah che belle Vai avanti Stavo guardando L'acqua ce n'è ancora Non dare una stagionata Eh ma tu mi hai accusato la visuale Sì è colpa mia no? Dove vado? Avanti Ma dritto? Giro a destra Allora non avanti Avanti a destra Dove? Non fa bene così? No Perché in retromarcia non va dritto? Non ho capito Vai un po' di avanti Basta Addrizza adesso Madonna Brava Eh ma non c'è andato C'è andato Ah beh no Ci stanno andando sì E le mucche dove mangiano? E le mucche dove mangiano? Adesso praticamente queste qua Qua Mangiano qua Le vedi? Questa qua sta burcando il fieno Vedi? Ciao Ciao A me piacciono Perché dici di note? No no Mi piacciono anche a me le vacche amore Va bene adesso Questo qua sai cos'è? Sì Cos'è? Un nastro trasportatore No Questo qua che c'è davanti con l'arancione cos'è? Cosa c'è dentro? Eh Non so È uno spandiretame Uh Bene Girami la visuale Gira tra da solo No no gira tu Vai Io ve la lascio Vi intrattiene lei No io Anche io Ciao Ho finito qua no? Per oggi Dai vieni che facciamo la chiusura Oh che bello Sei divertito amore eh? Sì Di la verità Tantissimo Bene mi fa piacere No mi hai lasciato un rossetto No no Non te l'ho lasciato Bene Sai che hai lasciato mezzo campo da trebbiare praticamente no? Sì ma io Lo farà Marchetto quello Sì Al posto tuo Eh Lasciamo fare a lui Lasciamo fare a lui no? Comunque dai Abbiamo avuto mia moglie nella serie In un episodio Non sono successi disastri Eh? Hai avuto un buon maestro o no? Eh? Quindi niente ragazzi Dai Cosa facciamo? Basta? Per questo video è tutto Io spero appunto che vi siate Appunto divertiti Che vi abbia appunto fatto piacere Questa cosa Se volete rivederla in un altro episodio Giù sotto nei commenti Mi raccomando Conto su di voi E Vuoi aggiungere qualcosa amore? Ok ragazzi dai Ditemi come ho fatto Ditemi Come ho fatto le cose Ma sicuramente hai fatto bene Dai E niente dai Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Ed un commento Ragazzi Iscrivetevi al canale Mi raccomando Dateci una mano A crescere E qui da XDroid88 è tutto E qui da Ilaria È tutto Ciao a tutti ragazzi E alla prossima Ciao 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 ciao